Amici sportivi di TV6, buon pomeriggio da parte di Andrea Costantini, le immagini dello stadio Porta Elisa di Lucca, teatro della gara tra Borgoa, Bugiano e Teramo. Un Teramo che vuole proseguire molto bene questo girone di ritorno, questo 2013, tre vittorie su tre per la squadra di Cappellacci che arriva con qualche cerotto a questa lunga trasferta nella zona toscana. Siamo nei pressi della Val di Nievole, siamo a Lucca nel glorioso Porta Elisa, purtroppo desolatamente vuoto perché siamo davvero tra pochi intimi, un centinaio di persone non di più. Questa gara che può significare tanto nel percorso di crescita che ha intrapreso l'undici di Roberto Cappellacci. Esordio dal primo minuto di Olcesa che finora era sempre subentrato nelle precedenti gare. C'è De Fabritis che in settimana ha risposto alla convocazione con la selezione. Intanto un missile subito di Dimash Gonsalves dopo 20 secondi e Serraiocco deve subito intervenire con i pugni sulla sassata del brasiliano. L'assetto della squadra di Cappellacci ma prima restiamo in cronaca. L'altra conclusione è ancora il tocco da parte di Serraiocco sul tiro di Candiano. Si propone anche Novinic, la palla invece è per Ambrosini. Ambrosini prova lo spazio, fa partire questo cross. La palla pizzica, la traversa. E qui dunque un brivido anche per il Borgabugiano. Nole, il suo cross ben calibrato, colpo di testa pizzicato da D'Antoni. Ha ben conosciuto il sistema di gioco del Terramo di Cappellacci, Marco Masi. Qui De Fabritis fa fuori Candiano, pronto al cross, Candiano torna su di lui. Poi Valentini subito in mezzo per Olcese, prova a girarsi l'argentino. Olcese, poi Ambrosini, Ambrosini! La palla sfiora, la traversa, il tocco di Garaffoni. In calcio da angolo Terramo vicino al vantaggio con un'azione tambuleggiante. Ma ora c'è il Borgo che attacca con Candiano. Fuori per Nole di prima con il sinistro, alto. Sì, De Stefano in aria, De Stefano, l'appoggio per Novinic e calcia male. Novinic aveva un buonissimo pallone al limite, ma lo ha calciato male. Poi De Stefano, il suo controllo, dietro per Novinic, chiama palla Ambrosini. Novinic però effettua un dribbling, Novinic può calciare, lo fa male, c'è una deviazione. Fuori gioco di Ferrani. Il Bucchi dell'ultima partita, anche lui, sa il fatto suo ovviamente. Qui brutta palla persa da Chauvet, Dimas serve Santini che però calcia male. E qui è andata bene al Teramo dopo l'errore di Chauvet. Brutta conclusione di Santini. Valentini, lo ricordiamo, è diffidato. Finisce il primo tempo, si va negli spogliatoi con il punteggio di 0-0 tra Borgo, Abugiano e Teramo. Ancora il sinistro di Speranza, ancora il campo che crea insidie al rinvio di Speranza. Cacciagli cerca D'Antoni, forse con un braccio D'Antoni si continua a giocare. D'Antoni vorrebbe tirare, lo fa centrale. Però nessun problema per Serraiocco. Borgo che prosegue nella sua iniziativa. Candiano, Dimas, ne rallenta l'azione Coletti. Poi Cacciagli, il suo destro, alto con Serraiocco immobile. Ora Cacciagli, D'Antoni sponda per Dimas, accelera Dimas, ancora Dimas, Dimas arriva al limite. Il suo tiro fuori di poco, ma c'è una deviazione. Qui Coletti ha tirato dietro il piede perché se avesse fatto fallo in quella situazione con Dimas lanciato centralmente, arrivava il secondo giallo e quindi veniva espulso. Sembrava essere stato Checchi a prendere il corpo di Olcese. Qui Bucano, Speranza e Chauvet. Dimas, rincorso da Coletti e Ferrani. Entra in area, Dimas, Serraiocco e poi D'Antoni. Fallisce una palla col Clamorosa. Clamorosa, palla col buttata alle stelle da D'Antoni dopo la respinta di Serraiocco a porta spalancata. A tre metri dalla porta, D'Antoni ha graziato il Teramo. Sì, non possiamo essere più precisi dal punto di vista della fase di non possesso difensiva perché il Teramo oggi l'ha impegnato poco. Però davanti, questi sono veramente pericolosi. Ancora Santini che ci prova a passare in mezzo, ci riesce Santini, Serraiocco! Copre bene il primo palo, è passato tra Coletti e Chauvet Santini in qualche modo. Nole, palla molto alta, di testa Ferrani, poi Dimas il controllo, il suo tiro a esterno della rete per Dimas Gonsalves. Pontedera è avanti nettamente con il Foligno. 0-0 tra Martina e Vigor. E 0-0 finisce anche la partita qui di Lucca tra Borgabuggiano e Teramo. Un punto può andare più che bene. Date le sofferenze, specie nel secondo tempo, per il Teramo che conquista il quarto risultato utile consecutivo. Dieci punti in quattro partite nel 2013.